Oggi siamo pronti per il blastaggio, in realtà noi dobbiamo essere blastati, in teoria Veniteci a blastare per lo studio nuovo Dobbiamo spiegare un po' di cose secondo me, io vi voglio tanto bene Ma il Cerbero non è in servizio pubblico, cioè questi re che pagano I lavori per il nuovo comune, capito? Un pagato e non me fanno entra Questo non è il tavolo, questo è un tavolino da picnic Donatoci gentilmente da Livio Marcone H. Xivionx Che c'è a corso in soccorso Perché il vero tavolo del nuovo Cerbero, del nuovo studio È bloccato non si sa dove E non mi rispondono quelli del sito È colpa di Macron E quando mi hanno risposto è colpa di Macron Mi hanno detto devi chiamare la Francia C'è un sito francese dove non capisco un cazzo Quindi se quella stronza del sito mi risponde No, vabbè, non esageriamo Quella che mi ha detto è la Francia Vabbè, sarà una grandissima testa di cazzo Però noi non esageriamo Vabbè, quindi ci hanno scammato questo Ci hanno scammato i led L'upgrade del computer Quindi, Marco I condizionatori I condizionatori Allora, la cosa divertente Ma si può inquadrare quella parte? Allora ragazzi Per farvi capire un po' gli spazi, no? Questa è la postazione momentanea Lì c'è un bellissimo condizionatore sgocciolante Quindi hanno... Bellissimo Stupendo E questa è la grande sala di cui tutti parlano Sì, c'è una scalinata sta dicendo Eh sì, là c'è sta una scalinata Qua dietro c'è sta pure un'altra parte che non si vede Poiché nel Cerbero bunker si scende, ovviamente Siamo sottoterra Esatto Il nero è stato blastato dal primo giorno Come criticavano il nero e ora gli manca Adesso starà la stessa cosa con il celeste Ci blasterete sul celeste e noi diremo Vaffanculo! No! Il celeste rimane! E rimarrà per sempre! Questione di principio! Il problema di questo studio è che è gestito un po' a cazzo Perché qui c'è una porta che taglia la stanza Che è quella della scalinata Poi c'è la saletta Poi lì c'è un garage molto grosso Però in quel garage in realtà ci hanno detto che non possiamo streammare Cioè è uno spazio molto più grande di questo Ci hanno detto no, non potete perché non è regolamentare L'idea sarebbe quello di fare, proprio di capovolgere questa situazione Cioè la regia dovrebbe stare qua Esatto E noi della, con tutto un po' la stanza Il resto della stanza a disposizione Per quelli che dicono 50k per sta merda Allora ragazzi, considerate che questo era un luogo completamente privo di ogni cosa che vedete Soprattutto la cosa più dispendiosa, economicamente parlando, è stata l'insonorizzazione Se io urlassi come un pazzo fuori non mi sentirebbe nessuno Tipo Oddio! Mi stanno uccidendo! No! Non arriverebbero i soccorsi Facciamo vedere bene Allora dai Questa è la nostra postazione Sì sì Lì c'è la saletta studio Dove hanno suonato i Futurio No 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 Vabbè questa è È una mitomania non necessaria Vedete qua c'è un verde Accendete magari la luce Qua abbiamo un verde con panel grigi Vabbè molto bello È molto spazioso Verrà fissato anche quello ovviamente Già stiamo sentendo un tizio che appunto fa cable management Il problema di quella stanza non è tanto le dimensioni che ci può pure stare Ho provato in sale prove molto più piccole Quello verrà tolto per l'appunto Questa è l'entrata con la scalinata La scalinata che porta gli inferi mascherati da paradisi E lì c'è il garage con... Sì 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 Guardate Che boss Che boss Ma lo vedete qua? Che mu è pieno di merda che poi verrà tolta ragazzi Qua c'è un sacco di spazio c'è Allora io faccio un gesto generale per tutte le sub di O Oggi Ed ieri anche Siete stati molto gentili Ma che gesto era? Che era? Ah è È il classico No era un po' Questo è nuovo È nuovo Dai facciamo la variante Così Tipo che te cieco Così I want you Doppio però capito Troppo rire Ficcatele in cuno marra No Grazie Cioè noi ci dobbiamo adattare Adesso torniamo un attimo serio Qualcuno ha detto pure Eh stanno ancora un po' bloccati Anche noi dobbiamo abituarci a questo posto È normale ragazzi Cioè non stremmiamo da un po' Questo è uno spazio alieno Per noi al momento Noi neanche staremo qui come O stazione Ci abbiamo in mente Tutt'altro C'è sta un sacco di roba Che ancora non abbiamo È incompleto Anche per quelli che hanno detto A sto punto Dovete rimanere in quello prima Ragazzi ma quella era una casa Con una stanza di vita studio Noi ci siamo trasferiti Per ragioni di forza maggiore Comunque dovevamo trovare un altro studio Dopo diverse peripezie Questo è quello migliore Alla fine Proprio perché parlava Vi rendete conto Quanto cazzo sia figo Avere un regista Per tutte le live Eh Dobbiamo parlare degli orari Tutte le live vediamo Per tutte le live O dello stipendio comunque Almeno Dobbiamo parlare Sarà raddoppiato Abbiamo licenziato Rubino Dobbiamo Lo sapevo Basta Rubino licenziato Possiamo dirlo tutti Sì Finalmente Rubino Sei Ufficialmente Licenziato Dal Cerbero Podcast You're fired You're fired Col ditino Non è più in grado You're fired Non è più in grado No 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 È troppo in grado Per questo Ma mica per altro Perché è troppo in grado Per noi Ha spiccato il buro Possiamo dire pure una cosa Attualmente Non sapremo neanche Come pagarlo E non stiamo scherzando Un po' troppe spese Ci sono state Abbiamo 330 euro Sul conto aziendale Evviva Si possono risalire 30k di insonorizzazione 13k per la regia E 5k per la musica Ancora c'è da far roba Regano Io vi farei vedere Com'è che stiamo qua per terra A me io di no Diciamo ci sono Uno scatolone per la regia Molti fili Taster e mouse a terra Secondo voi è questo Stanno scrivendo Deficenti Cretini del cazzo No 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 Si blani Non mi fanno cazzà Perché bisogna essere scemi Stanno scrivendo questo tavolo 400 euro No No questo porco dio Scusa Questa cosa deve essere chiara Noi ovviamente Viviamo grazie a chi ci supporta Col sub Ma questo non vi autorizza A pretendere tutto Non è che perché uno fa sub Allora Dovete darmi questo Poi nel momento in cui Non vi piace più quello che facciamo Non lo fate il sub A me spiace veramente Ma già la live di ieri È qualcosa che va oltre La normale live Quello che abbiamo sempre fatto Di Twitch Del porco due Di tizia Che ti lecca No L'interno dell'orecchio Oppure di tizio Che rosica E blasta la chat Sbattendo il joystick Perché la Roma No 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 Perché la Roma ha perso Ecco perché c'è La stack È molto diverso Ciò che abbiamo fornito ieri A parte le brutture estetiche Che ad alcuni Possono aver dato fastidio A livello di contenuto È oltre Perché non è un evento Straordinario La live di ieri Sarà all'ordine del giorno Quando sarà ancora più comodo farlo Quindi il power up È incredibile Se posso dire La cosa che non mi piace a me In assoluto Di questo studio Sapete qual è Io sono body positive No io sono body positive Bravo Non se può fumare L'avevo detto prima Io non mi sto A fumare sotto Per esempio Come va a scendere Però è stata anche Un'ottima scelta Secondo me C'era intenzione In realtà Anche quest'estate Di organizzare Una sorta di cerbero trip Che saranno delle Irl all'estero Se si potrà fare Ovviamente Se no Non a Roma Con un setup Professionale Quindi con una Videocamera Una regia mobile Poi mi sento tutto stretto Mi sento Ma qua che ammira tu Cioè io Mi sento Guarda già il muro Mi sento un topo in gabbia Voglio andare a fumare No no Porco Dio No Posso urlare Poteva essere una live carina Ma come poteva essere una live carina Non posso bestemmiare Qua non mi sente nessuno Aiuto Aiutatemi Addio mio Non sente nessuno Questa qua è una cosa magnifica Ti rendi conto Ti potrei sparare in faccia Qua non sentirebbe niente nessuno È comunque illegale La cosa che mi riempie più di energia Nuova È proprio il potenziale Che ha sto posto Vero Si possono fare veramente tante Di quelle cose migliori Di quello che abbiamo sempre fatto Ma allo stesso tempo Portare esattamente Lo stesso contenuto Che abbiamo sempre fatto Sarà tutto possibile Ma al contempo Sarà possibile pure fare serate Come quella di ieri È tutto più fattibile ora